E che ne so io come voglio essere seppellito? Chi ci ha mai pensato? Sepoltura o cremazione? Sepoltura o cremazione? Sepoltura! Oh, no, 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 io non voglio stare sotto terra tutto quel tempo, oh, io c'ho paura. Ma non voglio nemmeno essere disperso, che rimane ad essere disperso? Perché sotto terra che rimane? Non so nemmeno come cazzo voglio morire. Qui ci vorrebbe, mia madre, imparare ad avere paura per smettere di avere paura. Imparare. Grazie. 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 Grazie.